cazzo sembra che sia partito non credo che siamo ancora online è un battaglio no 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 si sente tranquillo ma ancora è lì? internet moto a domani Scusate Ah no no C'è stato un tuono fortissimo Ci siamo spaventati Ci siamo spaventati Siamo terrorizzati Sembra che un meteorite Come stavo parlando della birra Un meteorite scoppiato E ha spaccato tutto Vabbè è ora di chiudere ragazzi Anche le previsioni del tempo Ci dicono che dobbiamo chiudere Grazie a tutti Grazie a tutti